Anticipazioni tempesta d'amore, giovedì 7 novembre 2019 Jessica sta molto male in quanto vuole passare più tempo con Luna. Per tale motivo avanza una proposta molto importante a Paul che però la rifiuta. L'uomo motiva la sua decisione affermando di voler dare priorità al rapporto che la piccola sta costruendo con lui e Romy, abituarla alla nuova routine. Solo poche settimane fa abitava con Michael e Natasha, occorre darle tempo. La brohost è molto delusa dalle sue parole e quando scopre che a Bella è permesso stare con Luna va su tutte le furie e finisce per litigare nuovamente con il padre di sua figlia. Mentre André porta avanti un suo piano segreto, Ragnar stupisce Tina con una bellissima notizia riguardante il suo lavoro. La cuoca fa salti di gioia. La cuoca fa salti di gioia. La cuoca fa salti di gioia.